sono d'accordo con i sindaci e con l'anci dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza i ristoranti devono poter lavorare anche la sera se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13 deve permetterlo anche alle 20 lo dice il leader della lega matteo salvini salvini intervenendo alla trasmissione aria pulita chiede la riapertura di palestre piscine teatri e oratori altrimenti i danni anche mentali oltre che economici rischiano di essere devastanti e annuncia che il ministro per lo sviluppo economico giorgetti inviterà domani le aziende farmaceutiche per ipotizzare una produzione in italia dei vaccini